La mia ricerca artistica è stata sempre utilizzare l'arte come strumento sociale e socializzante, quindi l'idea che l'arte fosse comunque donata in maniera pubblica alla città, perché secondo me diventa anche uno strumento di una crescita collettiva, in qualche maniera di una fruizione spontanea e non di da scalica, perché tante volte le opere d'arte sono rese inaccessibili da tutto quanto quello che le involucro, che le contiene, magari a volte i messaggi sono più semplici di quello che sembrano, soprattutto nel caso di Napoli Eden c'era un desiderio immenso di poter far sì che ci potesse essere una fruizione della gente comune proprio libera, libera, proprio spontanea. Ecco perché collocarli per strada. Sto cercando qualcuno che con i propri gesti abbia contribuito al cambiamento della collettività. Io non faccio capire. È stato il secondo anno nel quale ho avuto questa possibilità di fare arte pubblica, perché l'anno precedente avevo fatto Maggio dei Monumenti con il mio progetto artistico multimediale, so che anche tu sei un'esperta e un'appassionata di multimedialità. E quindi quello è un altro viaggio verso la luce nel quale si racconta il mondo della diversabilità visiva attraverso gli occhi delle persone che il mondo non lo possono vedere e che diventano luce per gli altri. Cioè nel senso che io ho fotografato questi occhi con una macchina fotografica che ho brevettato, che fosse in grado di riprendere la cromia dell'irida in tutta la sua bellezza e quindi volevo dimostrare che in questi occhi che non riescono a vedere la luce, non hanno vista, potessero diventare una guida e potessero anche diventare un percorso di consapevolezza verso noi esseri umani cosiddetti, dico cosiddetti vedenti, perché poi ci dimostrano che non è proprio così. Innanzitutto potessimo avere uno stimolo per l'inclusione sociale delle persone con diversabilità visiva perché è doveroso e cosa che invece molto spesso la nostra società non gli garantisce. Il secondo aspetto che potesse essere uno stimolo per noi nel vivere la nostra vita con maggiore consapevolezza e con maggiore attenzione a tutti quanti i sensi, ecco perché chi la luce non la vede diventa luce per gli altri. Quindi avevo fatto questa operazione per maggio dei monumenti nella mia città all'Istituto Colosimo di Napoli, dove c'è una sezione museale, e poi ho chiesto di esporre nuovamente quest'opera nel centro della città, nella piazza più bella di Napoli, che è Piazza dei Martiri. E quindi una piazza storica, una piazza che comunque incontra proprio, se vogliamo dire, il cuore della città. Volevo che la gente scavalcasse questo pregiudizio di una cupola nera buia ed entrasse in una nuova dimensione. Questa installazione stradale multimediale ha avuto una quantità di visite pazzesca, circa 30 mila visite, c'era la fila a tutte le ore. E da un sondaggio del Comune di Napoli è risultato che Napoli-Eden, ad una domanda aperta su quale fosse la cosa più bella vista a Napoli, Napoli-Eden ha avuto il 45% di gradimento, quindi rispetto a un massimo di dato concordante di un 15%. Quindi un dato straordinario, ecco perché l'anno successivo il Comune di Napoli mi ha offerto la possibilità di fare quello che avrei voluto in tutte le piazze della città. Essendo una non potevo invadere tutte le piazze della città, nello stesso tempo ho colto un grande favore, uno stimolo che è arrivato dal Cial, il Consorzio Ballaggio e Alluminio, che mi chiedeva di, appunto, reputava che potesse essere in grado di fare qualcosa, non si sapeva cosa, ma c'era qualcosa per loro. Ho messo insieme questi due elementi, ho reputato l'alluminio un significante di una vera e propria rinascita, di una possibilità di trasfigurazione. Da uno scarto ad un'opera d'arte diventava anche una metafora di una rinascita e soprattutto di un riscatto verso quell'immagine di Napoli che è stata sempre assegnata, ma soprattutto una metafora anche per i ragazzi quartieri spagnoli, ma per chiunque, per potersi rialzare. Cioè chiunque, diciamo, da una certa definizione, da una certa categorizzazione, da un certo status, ha sempre la possibilità di riprendersi, di rialzarsi, trasfigurandosi in qualcosa di migliore. ecco in una luce. Ad lumen è un viaggio verso la luce, è un viaggio che ci apre le nostre prospettive, diciamo, proprio di comunicazione. Chi è un artista? Stamattina c'è scultura, c'è l'alluminio riciclabile? Da qui nasce, dal progetto artistico reale che stavo svolgendo, il mio curatore, Francesco Gallo Mazzeo, mi ha presentato Bruno Colella, che ha reputato il mio progetto molto importante, molto significativo da un punto di vista cinematografico, documentaristico, e quindi mi ha stimolato a portare avanti questo progetto che all'inizio, diciamo, era molto... non immaginavo di poter fare un vero e proprio film, perché poi stavo contemporaneamente svolgendo la creazione delle mie opere, quindi era difficile riuscire a fare tutte le cose insieme, però poi ho pensato che fosse un momento magico, era proprio questo iperrealismo che non volevo perdere. Con questi scarti di alluminio facciamo un albero di Natale brillante, più grande di quello che è stato in galleria. Siete artisti o no?